Ciao, sono Nicole. Sono cresciuta in un paesino, sapete, quello dove tutti conoscono i fatti degli altri. Non fatevi ingannare dal mio aspetto e dai miei modi femminili, perché sono una tosta. Ma Dominique, la mia migliore amica, beh, si fa calpestare da chiunque e questo mi infastidisce molto. Facevo sempre di tutto per proteggerla, ma non mi sarei mai aspettata di perderla come migliore amica. Io e Dominique ci siamo incontrate all'asilo. Una ragazza la stuzzicava per i suoi codini. Così sono corsa là per poi spingerla in una pozzanghera, cosa che l'ha fatta scappare via in lacrime. Dominique, con occhi dolci, mi ha ringraziato timidamente. Da allora siamo diventate quasi inseparabili. Ci siamo promesse che ci saremmo sempre state l'una per l'altra. E visto che i ragazzi sono stupidi, non saremmo mai uscite con nessuno. Poi sono andata alle superiori. Dominique diventava sempre più bella, quindi piaceva a tanti ragazzi. Ma aveva un cattivo gusto in fatto di ragazze e sceglieva sempre gli sfruttatori della sua natura dolce. A scuola c'era un idiota di nome Brandon. Pensava che il mondo ruotasse attorno a lui solo perché era un bel ragazzo e bravo negli sport. Cavolo, era proprio pessimo! Comunque, faceva di tutto per far sapere a tutti della sua noiosa festa. Noi eravamo all'armadietto quando è arrivato Brandon a parlarci. Dopo che è andato via, ho guardato Dominique. Era rossa come un peperone! Conoscevo quello sguardo. Aveva una cotta per lui. E io, come sempre, dovevo proteggerla dall'ultimo idiota. Dovevo incontrare Dominique alla festa. Sono arrivata che era in un angolo a chiacchierare con Brandon. Sono corsa da lei e ho iniziato a parlare di cose a caso come quanto era bello il tempo. Dominique ha notato la mia stranezza. Così ha mandato Brandon a prendere da bere, per poi chiedermi cosa non andasse. Le ho detto Perché passi del tempo con questo tipo? Non sai come tratta le ragazze come te? Ha risposto Ragazze come me? Cosa vorrebbe dire? Non mi serve una tata. Non puoi dirmi cosa fare. Poi se n'è andata via offesa. Vabbè, che faccia ciò che vuole. Cercavo di proteggerla da un tipo che cerca solo una cosa. Non doveva essere così rozza. Sono stata con altri compagni di classe. Ma continuavo a tenere un occhio su di lei. Non si allontanava mai da Brandon. E notai che lui continuava ad offrirle dei drink. Quando è arrivata al punto che quasi cadeva per poi ridacchiarne, già aveva bevuto abbastanza. Sono andata da lei dicendole che l'avrei portata a casa. Ma Brandon aveva altre idee. Ha preso una bottiglia annunciando che avremmo tutti fatto il gioco della bottiglia. Ah! Poteva andare peggio di così? Sorridendo, mi ha dato la bottiglia dicendo Prima le donne. L'ho ferrata. Cavolo, speravo che la bottiglia non scegliesse Brandon, perché baciare le sue labbra viscide mi avrebbe fatto vomitare. Ho girato la bottiglia e giuro ci ha messo un sacco per fermarsi. E poi la bottiglia si è fermata. Su Dominique! Oh mio Dio! Dovevo baciarla! Era la mia migliore amica! Che strano! Tutti ridevano e applaudivano. Bacio! Bacio! Ci siamo guardate arrossendo. Poi lei ha chiuso i suoi occhi e si è chinata verso di me. Mi sono detta che era solo un gioco stupido e senza significato, prima di chiudere i miei occhi per poi baciarci. Il mio cuore ha iniziato a battere forte, le mani mi tremavano. Era così insolito, non mi sentivo strana. In realtà mi sentivo calda e al sicuro. Ci siamo baciate per dieci secondi, ma per me era come cinque minuti. Prima di poter capire bene cosa succedesse, Brandon le ha passato la bottiglia. Oh no, era il suo turno! Ha girato la bottiglia e si è fermata su Brandon. Stupido Brandon! Oh, col cavolo! Ora deve baciare quell'idiota! Brandon sembrava essere un bambino il giorno di Natale. Cavolo! Speravo che durante il suo turno la bottiglia finisse su un ragazzo. Le ha preso la mano tirandola verso di lui e l'ha baciata. Cioè, l'ha baciata sul serio! E lei ha ricambiato! Oh no! Pensavo di vomitare! Tutti stavano applaudendo. Beh, tutti tranne me, ovviamente. Non smettevano di baciarsi, così l'ho tirato via da lei e le ho detto che era abbastanza. Ma lui mi ha allontanato e mi ha detto che avevano appena iniziato. Poi ha continuato a baciarla. Ero così infuriata che ho afferrato Brandon dandogli un pugno in faccia. Tutti mi urlavano contro. Anche Brandon che ha detto che dovevo lasciare la sua stupida festa. Ho guardato Dominique, ma lei ha distolto lo sguardo. Poi ho visto Brandon metterle il braccio sulle spalle. Dopodiché me ne andai senza dire un'altra parola. Ero arrabbiata, soprattutto con Dominique. Era la mia migliore amica. Eppure ha scelto di restare con quel cretino. In confusione, non smettevo di rivivere il nostro bacio più volte nella mia mente. Ero già uscita con alcuni tipi, ma non mi ero mai sentita così a baciarli. Con lei mi sentivo delle farfalle nello stomaco. Provavo qualcosa per la mia amica? No, mi piacevano i ragazzi, giusto? Il mio amore è peggiorato il giorno dopo a scuola. Stavo bevendo un caffè immensa. Quando ho sentito le ragazze dietro di me dire che Dominique aveva dormito con Brandon ieri sera. Che sorpresa! Ho finito per rovesciare il mio caffè dallo shock. Forse avevo sentito male. Così mi girai e chiesi se fosse vero. E tutte hanno risposto di sì. In quel momento io ero solo un guscio vuoto senza felicità rimasta dentro di me. Ho visto Dominique nel corridoio e mi ha salutato con la mano, ma sono andata via. Le settimane dopo furono terribili. Non riuscivo a dormire, mangiare o concentrarmi su nulla. Pensavo solo a Dominique che stava con Brandon e mi doleva il cuore. Mi mancava il suo sorriso, la risata e come mi rendeva felice. Già, ho poi capito che provo qualcosa per la mia migliore amica. Ma lei è innamorata di qualcun altro. Ho provato tanto ad andare avanti uscendo con un tipo di nome Clay. Era un tipo carino e davvero simpatico. Clay era fantastico. Però mi mancava da matti Dominique. Un giorno, mentre Clay era a casa mia a studiare, hanno bussato alla porta. Con mia sorpresa, ho aperto la porta trovando Dominique lì in piedi. Non sapevo come reagire. Da una parte ero felice di vederla, ma mi aveva fatto così tanto male. Così di colpo dissi, che cosa vuoi? Nicole, ascoltami. Mi dispiace tanto per ciò che è successo alla festa di Brandon. Mi manchi così tanto e ti devo dire anche un'altra cosa. Non potevo parlarne ora. Ero ancora così ferita. Così le dissi di andare via. Poi sono rientrata lasciandola fuori. Più tardi Dominique mi ha scritto un messaggio. Cara Nicole, mi dispiace davvero per tutto. Non sono stata una buona amica. Mi hai protetto e non l'ho apprezzato. Sono una stupida. Ora ho capito che sei la cosa migliore che mi sia mai successa. Ti amo Nicole. Ma ora capisco. Non siamo destinate a stare insieme. Spero che Clay ti renda felice. La tua migliore amica Dominique. Dominique mi amava! Anche lei mi amava! Dovevo vederla subito. Così sono corsa a casa sua ma quando sono arrivata lì sembrava la fine del mondo. Lei non c'era. Ma non solo quello. La casa era vuota. Ho provato a chiamarla ma il suo numero non esisteva più. La sua vicina disse che erano partiti di fretta per il nuovo lavoro del padre di Dominique. E lei non sapeva dove si erano trasferiti. E così Dominique si era cancellata dalla mia vita. Non ho avuto neanche la chance di dirle cosa provavo. Mi sono seduta fuori dalla sua casa vuota e ho pianto. Subito dopo ho rotto con Clay. Poi quando mi sono diplomata ho lasciato la città e i suoi tanti dolorosi ricordi su Dominique. E mi sono trasferita al college a New York. Dopo quattro anni mi laureai e decisi di rimanere in città. Un giorno prendendo il caffè mattutino nel mio bar preferito ho visto una donna dall'altra parte della strada. Sembrava così familiare. Poteva essere. Non credevo ai miei occhi. Era lei. Era Dominique. Per poco fui colpita da un taxi mentre attraversavo di corsa la strada per raggiungerla. Dominique sei tu? Ho urlato. Si è girata e mi ha guardata. Nicole? Oh mio Dio! Quanto tempo è passato? Cinque anni? Poi ho visto che teneva per mano un bimbo. Sembrava avere tre, quattro anni. È tuo nipote? È così carino! Ho detto. In realtà no, è mio figlio. Si chiama Nick. L'ho chiamato come te. Ho scoperto che prima di trasferirsi era rimasta incinta del figlio di Brandon. Aveva deciso di tenere il bimbo e crescerlo da sola con la sua famiglia. E non aveva detto di lui a Brandon. Riaverla nella mia vita è stato fantastico. Non l'avrei persa ancora. Così una volta, mentre ero da lei a guardare un film, ho preso coraggio di dirle quello che provavo per lei. All'inizio era silenziosa e mi si è fermato il cuore pensando che mi rifiutasse. Ma poi mi ha sorriso e mi ha detto che mi amava anche lei e che lo aveva sempre fatto. Ero così sollevata che questa volta non avevo fatto lo stesso errore di quando ero più giovane. Sono così fortunata ad avere un altro ascesco Dominique e non la lascerò mai più andare. Lei e Nick sono la mia vita. I nostri errori non ci definiscono. Anzi, sono lì per imparare. Così che in futuro saremo capaci di fare le scelte giuste. Per quanto suoni sdolcinato, credo che il vero amore vincerà sempre alla fine. È stato sicuramente così per me.